Nel nostro Paese è una vera ripresa stenta ad avviarsi. Il lascito della recessione è pesante. La caduta dell'attività rivolta all'interno è stata drammatica. Nel complesso la produzione industriale si è contratta di un quarto. Nell'ultimo trimestre del 2013, mentre le esportazioni erano quasi tornate ai livelli della fine del 2007, i consumi delle famiglie erano ancora inferiori di circa l'8% gli investimenti del 2016, con una perdita di capacità produttiva nell'industria dell'ordine del 15%. Anche se vi sono segni di miglioramento della fiducia, la necessità di compensare l'erosione dei risparmi accumulati, l'incertezza sulle prospettive dei redditi nel medio e lungo periodo, continueranno a gravare sui consumi delle famiglie. Questi potranno trarre beneficio dagli sgravi fiscali di recente approvazione, ma non diventeranno forza trenante di ripresa senza un duraturo aumento dell'occupazione. La recessione si è riflessa pesantemente sul numero degli occupati e quindi sui redditi delle famiglie. Tra il 2007 e il 2013 l'occupazione è scesa di oltre un milione di persone, quasi interamente nell'industria, e ha anche diminuito il numero medio di ore lavorate. Il tasso di disoccupazione è più che raddoppiato rispetto al minimo toccato nel 2007 al 12,7% dello scorso marzo. L'offerta di posti di lavoro tornerà a salire solo lentamente. Riforme strutturali volte a rilanciare la crescita agevolerebbero il riperimento di capitale di rischio e incoraggerebbero gli imprenditori a impegnare risorse proprie, mostrando per primi fiducia nelle prospettive delle loro aziende. Alla fine dell'anno scorso, solo metà dei provvedimenti attuativi previsti dalle 69 leggi di riforma approvate tra il novembre del 2011 e l'aprile del 2013 era stata definita. In materia fiscale, la rapida attuazione della legge delega potrà garantire maggiore certezza nell'applicazione delle norme e delle sanzioni, a rendere più efficace e mirata l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale. Il rapporto tra investimenti lordi e PIL è sceso di 4 punti percentuali dal 2007, portandosi nel 2013 al 17%, il minimo dal dopoguerra. La riduzione del rapporto tra debito e prodotto resta la sfida ineludibile per il nostro Paese. La sua velocità dipende dal ritorno a una crescita stabile e sostenuta. Crescita economica ed equilibrio del bilancio pubblico non possono che essere perseguiti congiuntamente. Il credito complessivo all'economia è in calo. Le restrizioni all'offerta di credito colpiscono in misura maggiore le imprese piccole e medie, generalmente più rischiose e ora particolarmente indebolite dalla recessione. Il 2013 è stato ancora un anno difficile per l'Europa e per la nostra economia, più di quanto si prevedesse un anno fa. L'uscita dalla recessione è travagliata, la ripresa fragile è incerta. La via della ripresa, non solo economica, non sarà breve né facile. L'incertezza è insita nella transizione, rapida, verso un mondo molto diverso, più mobile e aperto, dove la tutela dei deboli deve coniugarsi con l'offerta di opportunità per i giovani. Quanto alle banche, il rispetto delle regole e la linearità dei comportamenti sono condizioni essenziali sulle quali continueremo a vigilare.